Fare impresa in Sicilia diventa sempre più difficile, soprattutto se dopo aver vinto un ricorso al Tarra per la giudicazione di un appalto, ci si trova vittime di un sistema di estorsioni. La mafia questa volta voleva controllare i lavori di valorizzazione del patrimonio artistico dei Nebrodi. I carabinieri del comando provinciale di Messina hanno tratto in arresto 14 persone accusate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e trasferimento fraudolento di valori. Vittime due imprenditori titolari della Pegaso, Costruzioni, la società capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese a giudicataria dell'appalto di circa un milione di euro indetto dal comune e finanziato dall'Unione Europea per la riqualificazione di 12 siti dove sono installate le opere d'arte contemporanea del percorso culturale di Fiumara d'Arte. Gli imprenditori, dopo aver vinto il ricorso, sono stati accerchiati un consigliere comunale da una parte, un mafioso dall'altra e in mezzo una cartomante. Tutto parte da un'indagine iniziata nel 2015 nei confronti della famiglia mafiosa di Mistretta che ha permesso di scoprire un tentativo di estorsione da parte di un consigliere comunale, il commercialista di Mistretta Vincenzo Tamburello. Il consigliere comunale ha avvicinato gli imprenditori spiegando che la ditta che aveva ottenuto l'appalto prima del ricorso aveva versato la somma di 50 mila euro ad alcuni soggetti del luogo i quali avevano restituito dopo l'estromissione all'appalto e quindi adesso toccava ai nuovi imprenditori. Per mettersi a posto quindi il consigliere richiedeva diverse cose, innanzitutto la somma di 35 mila euro da consegnare a Maria Rampulla, detta la signorina sorella di Pietro Rampulla, condannato per essere l'artificiere della strage di Capaci, poi assumere nel cantiere tre operai ed infine rifornirsi per il cemento presso l'impianto dei fratelli Lamone. Queste azioni avrebbero consentito di non avere danneggiamenti o altre estorsioni. In contemporanea si aggiungono poi altre due figure, la prima è quella della cartomante Isabella Di Bella, ad avvicinarsi a lei per prima però è la moglie dell'imprenditore preoccupata per il ricorso al Tar. Andrà lei infatti dalla donna di Acquedolci per comprendere l'esito dell'appalto. La donna in seguito alla vincita del ricorso al Tar e quindi all'ufficiale aggiudicazione di questo appalto consigliava poi di rivolgersi al nipote Giuseppe Lorre, un noto mafioso già sottoposto a misure di prevenzione. L'incontro avviene in un nightclub ed è così che inizia la pressante richiesta di Lorre. A seguito di questa indagine è stato accertato anche un sistema di intestazioni fittizie, 11 complici insieme a Giuseppe Lorre, cosiddette tesse di legno. Il GIP infatti ha disposto il sequestro preventivo di tutte le attività commerciali di Lorre, compresi conti correnti e 5 auto per un valore complessivo di 2 milioni di euro.